La storia si svolge a Palermo durante le riprese di Viola come il mare. Fama, successo, popolarità e visibilità sui media. Chi non vorrebbe vivere un giorno nella casa di una celebrità, partecipare a eventi glamour, essere lodato e idolatrato da una folla di fan. Ma sfortunatamente, non tutto ciò che brilla è oro. E l'episodio che stiamo per raccontarvi testimonia come le star della televisione e dello spettacolo in generale abbiano dovuto fare i conti con il peso schiacciante del successo e di ciò che questo può produrre. La famosa attrice Kan Yaman, che ha recitato con Francesca Chillemi nella serie TV Viola come il mare in onda su Canale 5, sa cosa si prova ad affrontare l'amore sconfinato dei suoi fan che ogni giorno si trasforma in realtà. Anche coloro la cui ossessione ruota attorno al proprio spazio personale e professionale. Il fuoriclasse turco, che risiede ancora alla Roma lo scorso maggio, si è dovuto trasferire anche per l'intervento di alcuni suoi fan, che hanno sorvegliato l'esterno della sua casa 24 ore su 24 e non gli hanno permesso di respirare. Troppo spesso l'interventismo è diventato un vero e proprio seguito, per non parlare dell'aggressione mediatica a cui è sottoposta ogni donna ad esso associata, ma semplicemente perché è accettato con riluttanza dall'enorme esercito di fan. Anche a Palermo, dove Kan è andato a sparare a Viola, sembra che alcuni suoi tifosi stiano navigando. Sfortunatamente, ha dovuto fare i conti con la sua invadenza. Grazie ad alcuni video trovati su internet, è possibile vedere l'attore turco essere letteralmente attaccato da alcuni suoi fan che non solo hanno bloccato il suo passaggio alla sua auto, ma hanno addirittura aperto con la forza la portiera e preso a pugni l'auto. Scatta selfie con i tuoi cari o fatti autografare. Una scena inquietante che potrebbe essere facilmente scambiata per un tentativo di attacco. Fortunatamente, quasi tutti i seguaci di Kan Yaman sono civili e rispettosi. Alcuni fan della star turca. Dopo l'incidente, le pagine volevano andarsene, forzare la portiera di una macchina per entrare. Si è messo in mezzo alla strada e ha sbattuto sul cofano per non passare. Ti rende volgare, contadino e volgare. Come tifosi, ci isoliamo da tutti gli eventi che si svolgono a Palermo. Piuttosto disgustoso. Innanzitutto di più a Kan Yaman, che ha il diritto di lasciare l'hotel senza salire sul palco. Vogliamo essere rispettati, ha detto.